Maria De Filippi ha deciso di sfidare l'amica e collega Mara Venier con un furto di tutto rispetto dalla Rai. Giovedì 26 settembre è stata registrata la prima puntata di Amici di Maria De Filippi, il talent ventennale tornerà in onda su Canale 5 a partire da domenica 29 settembre 2024 Il programma sarà trasmesso dalle 14 alle 16, in competizione diretta con Domenica in Mara Venier e Maria De Filippi, nonostante l'amicizia con le Lega non si risparmiano colpi quando si tratta di conquistare un tassello in più in fatto di ascolti Non stupisce quindi che la De Filippi abbia puntato su dei pezzi da 90 come ospiti della prima puntata Sono infatti emerse le prime anticipazioni, grazie a numerosi utenti che su X hanno raccontato cosa è successo durante la registrazione del programma, incentrato per questa prima puntata sulla scelta dei futuri allievi della scuola di Amici Amici, prima puntata, ospiti, addie conferme.Grande cambiamento nel parterre dei professori di Amici di Maria De Filippi, quest'anno non rivedremo in cattedra Ramondo Todaro, l'ex volto di Ballando con le stelle è stato infatti sostituito da Deborah Lettieri come insegnante di danza Promosse nella classe di ballo per la nuova stagione Alessandra Celentano e Emanuello Il gruppo canto sarà invece guidato da Rudy Zerbi, Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini che, nonostante i numerosi rumors, non ha abbandonato il programma Numerosi cambiamenti hanno interessato anche il cast dei professioni con due grandi assenze nella prima puntata, nessuna traccia delle ballerine Francesca Tocca e Giulia Pauselli Quest'ultima è stata sostituita nel momento sponsor dall'ex allieva del talent Isabel Assente in studio ma confermata nel cast con tanto di collegamento da Londra, Giulia Stabile Stando a quanto anticipato da Superguida TV gli allievi di questa nuova edizione saranno Sienna, ballerina.niccolò, cantante.diego Lazzari, cantante Alessio, ballerino.alessia, ballerina.gabrien, ballerino.trigno, cantante Chiara, ballerina.lup3, cantante.bib, cantante.daniele, ballerino Teodora, ballerina.ilan, cantante.senzacri, cantante.alegna, cantante Rebecca, ballerina.già dalla prima puntata del talent Maria De Filippi sembra intenzionata a tirare fuori gli artigli, ha infatti chiamato un parterre di ospiti di tutto rispetto Tra loro spicca anche il nome di una delle conduttrici più amate degli ultimi anni Per sfidare Mara Venier con la sua Domenica in, la De Filippi ha chiamato per la prima puntata di Amici, Mahmood, Cristiano Malgioglio e gli attori Marco Bocce e Ilenia Pastorelli, e la giornalista e conduttrice Francesca Fagnani Grazie a tutti